La festa dei Santi Cosme Damiano, considerate che è una festa molto folkloristica nella quale i nostri pescatori originariamente, adesso naturalmente non è più così, si vestivano di bianco e di rosso, il bianco era la purezza dei Santi, il rosso sono due fazzoletti, uno alla vita e uno al collo, rappresentano invece il martirio, il rosso del martirio dei nostri Santi e venivano portati in processione per tutta la borgata a piedi nudi da questi pescatori che chiedevano la grazia ai nostri Santi, ci sono anche molte ovazioni ai nostri Santi che derivano dai nostri pescatori, quindi considerate quanto è radicata la nostra cultura di pesca, la nostra cultura marinara di sfera cavallo.